Buongiorno da ETG Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina Facebook, la nostra app di ETV. In primo piano parliamo di carburanti o meglio dei rincari che riguardano i carburanti dall'inizio di agosto fino ad oggi. Un rincaro che ha portato a toccare delle cifre anche piuttosto esose, piccola consolazione, le marche sembrano dai dati ufficiali la regione più economica e nel dettaglio ancora di più lo è la provincia di Ascoli Piceno. Da 16 giorni, quelli dell'esodo agostano, i prezzi della benzina sono in costante aumento, fino al primato dell'area di servizio sulla A8 Varese Milano, 2,7 euro al litro. Al salasso della verde, ma anche del diesel, non possono scappare gli automobilisti marchigiani, che però possono accontentarsi di un primato che consente di risparmiare qualcosina quando il serbatoio è vuoto. La regione è infatti la più economica in Italia per quanto riguarda prezzi di benzina e gasolio alla pompa self. Nel primo caso il costo è di 1,913 euro al litro, nel secondo di 1,811 euro. In Italia i distributori più costosi si trovano in Basilicata per quanto riguarda la verde e in Liguria per il diesel. Le marche in generale si mostrano un po' meno economiche al servito, tanto è vero che Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Alto Adige e Abruzzo fanno meglio per quanto riguarda la benzina, con Lombardia e Campania che accostano la regione al prezzo di 2,085 euro al litro. Per quanto riguarda il gasolio invece il costo marchigiano di 1,986 euro è battuto da Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Campania e Abruzzo. Con un ghigno sorridente, non proprio a bocca aperta, si concedono il pieno ai cittadini della provincia di Ascoli Piceno, che in base ai dati dell'osservatorio prezzi del Ministero dei Trasporti, è quella col prezzo medio più basso in per il diesel, al self, venduto a 1,799 euro al litro, come Ragusa in Sicilia, ed è la seconda meno costosa anche per la benzina self, 1,903 euro, battuta solo dalla provincia di Biella. All'interno dei confini regionali, Ancona e Fermo fanno concorrenza ad Ascoli, applicando il prezzo di 1,907 euro al litro per la verde e 1,804 euro per il diesel. Al servito ancora Ascoli è in testa per la verde, mentre Fermo la supera per il gasolio. Le pompe invece più pesanti per i portafogli dei marchigiani si trovano in provincia di Pesaro Orbino, la benzina costa 1,932 al self e 2,102 al servito, il diesel rispettivamente 1,829 euro e 2,008 euro al litro. Capitolo GPL, la regione tra le più care in Italia, 0,723, peggio solo di Liguria, Trentino, Molise, Sicilia e Sardegna. L'obbligo di esposizione dei prezzi medi è insomma valso a poco. Per questo le associazioni dei consumatori si sono rivolte alla Guardia di Finanza, che nel dettaglio, nel periodo dal 1 al 15 agosto, ha eseguito in tutta la penisola 1.230 interventi, riscontrando 325 irregolarità nei confronti di 85 distributori operanti sulle autostrade e 1.145 impianti attivi sulla restante rete stradale. In 363 casi la violazione è riferita alla mancata esposizione dei prezzi. in 426 per la mancata esposizione del costo medio dei carburanti. Ed ora torniamo sullo sbarco nella giornata di ieri della nave Migranti Humanity One nel porto di Ancona, con i 106 migranti che saranno ora redistribuiti sul territorio delle Marche, ma scoppia anche la polemica perché c'è stata la presa di posizione del sindaco Daniele Silvetti che ha detto che tre navi in due mesi Ancona è satura. Tre navi in due mesi insomma cominciano per Ancona a essere piuttosto impegnative dal punto di vista proprio dell'assistenza e della possibilità di trovare gli spazi giusti, perché poi sono persone che rimangono nel territorio marchigiano, quindi abbiamo quasi 400 profughi nel giro di due mesi tra tutte e tre le imbarcazioni. Questo comincia ad essere un dato piuttosto importante e ho chiesto appunto al Presidente Acquaroli di prevedere la possibilità di derogare alle unità previste per ogni centro di educazione, di aumentare in unità la possibilità di ospitare minori. e l'abbiamo fatto presente, ne ho parlato anche ieri con lui, però ecco la situazione di Ancona città è satura, l'ho già detto qualche giorno fa e noi non ci sottraiamo ovviamente a quelli che sono i concetti, i valori dell'accoglienza, però oggi da punto di vista numerico, da punto di vista proprio anche organizzativo la struttura è sotto pressione. A quello che mi riferiva l'assessore ai sedi sociali, la situazione di Ancona deve gestire l'ordinario e lo straordinario degli ultimi due mesi, quindi non abbiamo noi questo tipo di disponibilità. Ripeto, Ancona in questo senso sta dando un grande contributo che però insomma non vorremmo fosse preso come una disponibilità all'infinito. Abbiamo dei numeri, abbiamo delle strutture che ripeto sono già oltre misura occupate a disposizione per le emergenze che però sono ormai arrivate a un punto di saturazione. l'emergenza sociale la gestiamo ma la gestiamo ormai per poco. L'emergenza non giustifica sempre una situazione di disagio che poi dopo il disagio è di più diversi. Ecco perché ho chiesto, adesso chiederò anche in modo formale, Ancona insomma possa averla al tempo per gestire quello che è stata costretta in qualche modo a gestire in questi ultimi due mesi. Pagina della cronaca perché nella mattinata di oggi i carabinieri forestali del gruppo di Ancona congiuntamente con i carabinieri del provinciale di Ancona e i cinofili di Pesaro hanno eseguito un'operazione di controllo nella spiaggia di Mezzavalle. L'operazione è stata eseguita a seguito di numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi e relative a centinaia di soggetti che già prima di ferragosto si erano organizzati per pernottare nella spiaggia. Inoltre una parte della stessa spiaggia è interdetta alla frequentazione per il cedimento della falese. Operazione scattata alle 5 del mattino è consentito di individuare 72 soggetti che avevano pernottato nell'area in questione con tende, sacchi a pelo, altri in strutture fisse e abusive costruite con teli e pali di legno. In tutto sono state levate delle sanzioni, ben 72, per un totale di 14.000 euro. E poi con il supporto anche del gruppo cinofili di Pesaro, intervenuto con il cane di nome Juan, altre tre persone che risiedono ad Ancona e Senigale sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, un grammo di mariguana e un grammo di hashish. Al comune anche la segnalazione di numerose strutture da demolire in tempi brevi e realizzate con materiali in legno reperiti in loco oltre a teli, stuoi ed altri materiali da copertura. Sempre per la cronaca, il lavoro della Guardia di Finanza nel settore della contraffazione. Ad Ascoli la finanza ha scoperto 13 lavoratori in nero e poi 150 i controlli in materia di scontrini, di ricevute e trasporto merce, con particolare attenzione dedicata alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accise e a imposte di consumo, sequestrati 253 capi di abbigliamento con marchi contraffatti di note griff e 60.000 articoli esposti in vendita tra casalinghi, articoli di cartoleria, accessori, moda e bigiotteria privi del marchio della comunità europea o comunque non conformi agli standard di sicurezza. Complessivamente individuati 13 responsabili degli illeciti di natura amministrativa e segnalati quindi alla locale camera di commercio. Invece per quello che riguarda il giorno del ferragosto, imbarcazioni sono state controllate appunto dalle fiamme gialli, in particolare dal reparto operativo aeronavale di Ancona nelle coste, lungo le coste di Senigallia e di Nomana, in questo caso sono stati 4 in tutto i verbali e poi identificati 60 soggetti, controllati 25 imbarcazioni da diporto con diverse irregolarità in materia di polizia marittima. Per le 4 imbarcazioni che sono state bloccate e sanzionate il reato era quello del mancato rispetto della distanza minima di navigazione dalla costa. Voltiamo ora completamente argomento per il Macerata Opera Festival 2023, grande successo per l'iniziativa degli aperitivi culturali. Vediamo. Va in archivio ancora una volta con un grande successo di pubblico e critica la rassegna degli aperitivi culturali, l'appuntamento del mezzogiorno ai antichi forni connesso al cartellone del Macerata Opera Festival. Per il diciottesimo anno il pubblico ha potuto ascoltare filosofi, musicologi, critici di fama nazionale e ancora direttori d'orchestra e registi delle opere in scena allo Sferisterio. I 14 incontri e confronti sono stati curati da Cinzia Maroni dall'associazione Sferisterio Cultura. Mai come quest'anno abbiamo avuto una continuità di pubblico, cioè non c'è stato appuntamento che non sia stato pieno fino all'orlo. Quindi siamo contenti, vuol dire che il nostro messaggio multidisciplinare sull'opera litica può passare e sta passando. Quindi pensiamo già ai prossimi appuntamenti. Quindi sguardo già al futuro con il direttore artistico del Macerata Opera Festival, sempre presente agli antichi forni, che ci svela i titoli della stagione 2024, stagione numero 60 dello Sferisterio. Presenteremo tre titoli puciniani, di cui uno, una meravigliosa partitura, curiosamente mai presentata allo Sferisterio, la fanciulla del West, poi Turandot e Bohème. Pinamonti sottolinea anche la prima mondiale di una coreografia di Marcos Morao. Un grandissimo coreografo, coreografo residente al balletto di Berlino, che farà per noi una notte morricone insieme all'Ater, balletto, in prima mondiale qui allo Sferisterio, perché anche la danza è un aspetto secondario. Dunque continueranno le contaminazioni culturali al Macerata Opera Festival, contaminazioni, asset portante proprio degli aperitivi. Ultimo pensiero della Maroni, il ringraziamento ai locali maceratesi che ogni giorno hanno offerto prelibatezzi a tutti i presenti. Sono stati aperitivi culturali sia all'inizio che dopo. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.etvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio è quello di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie.